In questo video parliamo dell'attrezzatura che ti serve per creare i tuoi sistemi di gestione basati sui codici a barre. Ho preparato una selezione di tutta l'attrezzatura che ti occorre. La prima cosa è il lettore di codici a barre. Come vedi il prezzo parte da 20 euro, quindi te lo puoi permettere sicuramente, però ti consiglio se hai un business lettori di fascia alta. Puoi tenerti magari un lettore di fascia bassa per riserva, un lettore d'emergenza, non si sa mai, però opera con lettori più affidabili. Un'altra cosa che probabilmente non hai sono le etichette. Queste sono etichette adesive. Come vedi ce n'è 24 per foglio, 100 fogli a 12 euro, quindi sostanzialmente ne hai 2400 per 11,95 euro. Quindi sì, anche le etichette, te le puoi permettere, non esistono solo etichette rettangolari. Puoi anche acquistare online ad un prezzo piuttosto basso, 3,64 euro per 150 etichette con questa forma qui. Quindi ideali per gioielli, bigiotteria, forse anche per vestiti. Inoltre ci sono anche altre forme. Se vendi, non so, mobili o comunque qualcosa di artistico o d'oggetti di design, forse è meglio avere delle etichette con forme differenti dalla solita etichetta quadrata. Infine ti occorre una stampante con inchiostro. Credo tu l'abbia già. Se non ce l'hai, ho preparato anche una piccola selezione di stampanti. E se non hai Excel, è arrivato il momento di comprarselo. Ordina online tutto ciò che ti serve e noi ci vediamo quando hai terminato i tuoi acquisti. Soprattutto iscriviti al corso. Imparerai a creare sistemi di gestione basati sui codici a barre e potrai lavorare con velocità, efficienza e zero errori.